Buonasera dal campo di Venaria Amichevole, quest'oggi, questo 25 giugno 2016 tra i bianchi dello Sport in Venaria e i blu del Vittoria Ivest 2002 Entrambe le categorie sono questa volta del 2002 quindi scontro tra gli stessi ragazzi, stesso anno giovanissimi, fascia B 2002, ancora per qualche mese poi da settembre giovanissimi, secondo anno Ecco il blu del Vittoria Ivest, siamo qui al campo di Venaria contro i bianchi dello Sporting di Venaria giornata coperta, temperatura gradevole un po' calda lo stesso comunque sia spalti gremiti, ecco gli inquadrati di spalti di Venaria che sono pieni anche sopra le tettoie pubblico dalle grandi occasioni anche oggi ecco altre persone dappertutto come funghi, come primule, come fiori vengono fuori i tifosi del Livest e dello Sporting Venaria naturalmente come sempre che vinca lo Sport, solo quello, buona cosa a tutti amichevole tra lo Sporting Venaria e il Vittoria Ivest categoria 2002 no, 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 no amici, bene, ne qui ecco, ma sono convinto bravo, ma sono convinto mi senti mi senti mi senti una tre volte questa cosa mi senti una andiamo mi senti una mi senti una mi senti una mi senti una perdiamo un pallo al riconvinto mani, ne io prima occasione da parte dell'ivest non conclusa questo 25 giugno 2016 scampoli di ancora di partite prima del riposo del meritato riposo ora lollo non mollarlo lollo si che gli arubi lollo inizia anche guarda lì ordinati ecco abbiamo detto nel fogliatoio lì aiutiamoci ragiona parti uno che parte dalla vince scarica cala in mezzo salire occhio giuseppe giuseppe parola del portiere siamo il quarto quarto del primo tempo garamichevole buona vai miglior bravo 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 anticipiamo tingaro torniamo in mezzo al campo occhio donna vince torniamo veloci due contro uno siamo qua guarda che è andato mettila di prima bravo miglior eccolo lì ragiona ma perdiamo palla eh raga giro 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 anche dai 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 non mollare miglio miglio devi già presentarti miglio ecco ecco galli oh no ragiona occhio galli veloce gallicchio con la posizione dal limite siamo al minuto 6 fuori fuori sempre 0-0 primo tempo leggero predominio dell'ivest ma il portiere ha fatto solo una parata dallo sport in eria dalle amichevole ricordiamo guardalo qua guardalo qua ti vieni a scalare non ci devono fregare non dovete stare fermi ritorna miglio guarda sono in due devi rientrare veloce miglio in mezzo al campo Matti 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 lì la tiro Matti non mi metto a triplare eh parata nel portiere Mattia Mattia ottavo del primo tempo Mattia vieni largo Giuseppe vieni a stringere Giuseppe guarda gallicchio va bene non importa ce l'hai anche dietro ce l'hai anche dietro eh oh ma andiamo però gallicchio gli dà la palla lì non dobbiamo aspettare che riceva il pallone eh partì miglio partì scoperti ora 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 che forte che l'hai chiamata gallo grande oma buona aiutalo 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 vincezzo vincezzo le scarichi dietro sempre a 0-0 vieni 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 qua dai poi i bianchi dello Sporting venaria e il blu del Vittoria di Vesti no ma non mollare vince non mollare eh fai l'incontro voglio vedervi camminare eh sì che è nostra lì non dagli il tempo di prendere il pallone buona non devono uscire così oh allargati Giuseppe scarica bravo vai girare si arrivi si arrivi si arrivi guarda Andrea dai Omar gioca gioca si buona bravo bravi bravi vieni su vieni su Zicaro cosa stai a fare lì fermo vai a stringere in mezzo Zicaro Zicaro undicesimo 0-0 siamo qui a Venaria al campo del Venaria questa gara amichevole non avanti a sto diciassette anticipalo si Lollo si calma ragiona stai anticipiamo lì al centro campo eccolo bravi bravi guarda dall'altra parte miglioro no 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 bravissimo così si miglioro miglioro bravi dai Gallicchio bravissimo vai guarda vicesma Gallicchio due palloni Gallicchio ordinato Gallicchio ragiona ragiona ma dai ma guarda growth ciao cantando finde troppo grazie come dai dai tap change vien vien vai guarda lap vien fai d non perdiamola lì ehi miglio andiamoci non farti saltare 13esimo calcio d'angolo per l'Iverst porta su stasquadra non farti saltare vieni su zingaro porta su stasquadra vieni su occhio lì grande ragiona scarica scarica dietro ce l'hai lì zingaro a un metro non rimaniamo lì fermi addormentati dai rubiamo il pallone dai vieni su andiamo a scalare andiamo a scalare dai Stefano Stefano anticipa lo zingaro non fai di colpire il pallone bravo che vieni bravo Omar oh è nostra lì dove va oh non farlo tirare bravo bravo Omar fischiene una però grande Omar Omar alza la testa era buona l'idea dai vai Stefano dai Stefano mi entra Stefano bravo buona vince buona vai vai ah Stefano 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 sei da solo lì ragiona porta su porta su vieni su non farti saltare ancora una parola del portiere siamo al 17esimo 0-0 2 tempi da 35 in questa amichevole primo cambio in questa amichevole guarda Milio bravo non mollare Lollo non mollare andiamo a scalare tu dai vieni vieni guarda lì che buco vieni 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 Milio vieni bravo orla ancora 0-0 siamo al minuto 18 è lì che non bisogna fargli colpire il pallone bravo bravo figa bravo bene ma chi è da Roma? vai oh vedi il topo gira gira vai raga non fanno girare bravo marra bravo vince vai 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 dalla ragiona si occhio uomo uomo bravo Omar c'è una toccata Omar c'è anche lui eh buona rientra Omar buona Milio recupero Omar recupero Omar mani ali mani inizia ora il 21esimo minuto 25 di giugno 2016 tra i bianchi dello Sporting è il Vittoria Ivers del 2002 fallo, fallo o gol? gol 1-0 al ventunesimo ventunesimo quindi gol del Ivers gol di Marco calcio d'angolo per il Sporting con la maneria che perde 1-0 in questa gara amichevole ventitresimo boh buh buh Palla fuori, conclusione al minuto 26, sempre 1 a 0 Fuori di poco, ventisettesimo E' da solo lì eh Occhio, 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 rientra Ehi, Miglio, vai su sto 18, Miglio No, no, usciamo gli Adiga Fai buona lì, vizze Siamo al minuto 28 28 su 35 Questa giornata molto calda Quando usce il sole fa ancora più caldo No, 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 usciamo Arriva l'uomo un metro Altri cambi, siamo al minuto 29. Sto a guardare! Stefano, aiuta la squadra! Ancora Matteo? Si, si, balle, si, balle! Gabri! Gabri, vai su! Miglio! Miglio lì! Ah no! Provaci! Ti la lasci al muì e tu ti allarghi sulla fascia e la giochiamo! Un centrale così eh! Vai Matteo! Vai Matteo! Vai Matteo! Vai Matteo! Guarda giusto, guarda giusto! Sempre 1 a 0, minuto 31. Lollo vieni qua! Vieni qua! Dai, dai! Viamo! Vieni qua! Vieni qua! Bravo, bravo! Bella palla! Matteo si è addormentato Matteo! le marcature andrea andrea te li devi chiamare andrea grande portiere andrea bravissimo andiamo attaccarli andiamo attaccarli anche tu lì buono dai che buona dai lì c'è no no non vogliamo niente vieni a scalare qua vieni a scalare la nostra faccia uomo 2 a 0 col al trentatresimo e quindi al trentatresimo raddoppio dell'iveste eccolo vai dall'altra vai dall'altra vai dall'altra parti vince zingaro zingaro guarda il quindici zingaro dai 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 ragazzi e riparte il secondo tempo anzi non riparte parte secondo tempo guarda lì guarda lì guarda ed eccolo qua eccolo qua il gol della sport in veneria dopo neanche un minuto 15 secondi ripartiamo col botto 2 a 1 dopo 15 secondi quindi dopo il primo tempo 2 a 0 dopo 15 secondi 2 a 1 siamo qui al campo di veneria per questo secondo tempo tra le sport in veneria bianco quindi dopo il primo tempo 2 a 0 gol al quindicesimo secondo 2 a 1 tra i bianchi dello sport in cenizia chiedo scusa sport in veneria e il blu del vittoria ives 2002 25 giugno 2016 amichevole ci dicono rigore fallo non l'abbiamo visto poi vedremo ralenti e quindi dopo due minuti calcio di rigore gol 3 a 1 dopo 2 minuti del secondo tempo quindi 3 a 1 due gole in due minuti buona e eccola li bravi dai raga buona buona Si fischia, eh, fischia? Si fischia! Aiutalo! Si compra il centro! Aiutalo! Entro! Bene! Si tagli in mezzo! Bene, buone! Si Willy! Si Willy! Si! 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 Eccola lì! Eccola lì! Eccola lì! Eccola lì! Eccola lì! Eccola lì! Buona orla! Ancora, ancora! Eccola lì! 3-1 siamo al sesto del secondo tempo! Eccola lì! Bravissimo! Vieni, allargati Omar! 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 Dagliela Omar qua! Galli! Carica dietro! Buona giornata! Uomo! Uomo! Iccoli! Iccoli! In due! Calma! O �è! Hall serious! O considering la quarter game! Bravo, Galli molto! Zarco! 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 Super gioco per gioco! Eلا. Bene! sempre nel filo del fuorigioco gol la palla esce conclusione al nono del secondo tempo la palla esce bravo Marra metti la giusta a fare fatti sali sali siamo lì contro guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui guarda qui guarda bravo guarda qui 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 Grazie mille Calcio d'angolo 4 a 1, siamo al tredicesimo del secondo tempo Grazie mille 16esimo, sempre 4 a 1 25 giugno 2016, amichevole tra i bianchi dello sport in venaria e i blu del Vittoria Est 2002 18esimo e vai 5 a 1, gol al 18esimo e vai 7 a 1, gol al 18esimo e vai 5 a 1, gol al 18esimo bravo Zingaro va bene va bene ora 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 vai verso la porta occhio non li stiamo occhio non li stiamo occhio non li stiamo bravo occhio leggo 5 a 1 siamo al 21esimo in questo istante in questa gala amichevole tra i bianchi dello Sporting Venaria e il blu del Vittorio Rivest. e il blu del Vittorio Rivest 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 uuuu fuori di poco venticinquesimo 10 al termine si 10 al termine 5 a 1 gara amichevole guarda qua guarda questo sono qui a Venaria il blu del Vittorio Rivest il blu del Vittorio Rivest il blu del Vittorio Rivest e gol 6 a 1 gol al 26esimo 6 a 1 quindi 26esimo secondo tempo ecco eccolo ok salta salta nostra vista? nostra sempre se a voi va bene perché siamo trovando tutti i ragazzi si va bene non salire troppo giusto 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ho perso il conto se 5 a 1 o 6 a 1 secondo tempo mi assicuro che siamo al 31esimo ci dicono 5 a 1 verificheremo poi stasera è una gara amichevole quindi consideriamola come gara amichevole sportiva trenta quattresimo bravo beppe bravo leo andiamo andiamo bravo bravo miseria uuuuh uuuuh eccolo la bravo bravi 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 bravo gol 6 a 1 prendere andiamo 4 mandai mandai bravo Ale bravo bravi bravo e gol 7 a 1